L'azienda Baglio del Cristo di Campobello nasce a Licata, anzi a Campobello di Licata in provincia di Agrigento grazie a un'intuizione visionaria della famiglia Bonetta nel 2000 intuizione che ricalca quella che è la voglia della Sicilia di esprimere nel calice non solo le varietà autoctone ma anche varietà all'octone che si sono ben adattate, ben acclimatate sul territorio un territorio che in questo caso ha nella sua pedologia la peculiarità principale ci troviamo infatti in vigneti tra i 300 e i 350 metri di altitudine con un terreno fortemente calcario e gessoso un'unicità per i territori della Sicilia ma difficile da reperire anche in altre aree dell'Italia tutta in questo caso ci troviamo di fronte a Lussirà un vino del 2019 che va a rispecchiare quella che è la vocazione della Sicilia che è la regione che più di tutte le altre ha dato disponibilità nell'accogliere questa varietà francese un naso che risponde alle note varietali nel frutto con i frutti rossi ma anche nel fiore una violetta molto accentuata ma soprattutto nella spezzatura classica del Sirà il sorso esprime la sicilianità grande avvolgenza, complessità ma senza le ridondanze, termini di morbidezza e di zucchero di dolcezza, alle quali eravamo abituati anni fa un vino secco, deciso, con un buon tannino, ben definito e un finale fortemente saporito finale saporito che mi dai là per abbinamenti che possono spaziare da primi di terra a grigliate di carne fino a formaggi stagionati molto intensi nel gusto che ben si abbinano a questo Sirà che fa della sua struttura ma anche della sua versatilità a tavola i suoi punti di forza